Italiano! E' stato un pochino italiano in questo momento dovrei dire un filmato si ti potrei parlare un pochino ti faccio una scena del film di Bud Spencer e Terence Hill anche gli angeli mangiano fagioli sei solo chiacchiere e distintivo sei solo chiacchiere e distintivo chiacchiere e distintivo Riccardo fa un discorso va per il compleanno discorso allora siamo qui cosa ti aspetti per quest'anno? quest'anno mi aspetto allora quest'anno mi aspetto sono questi miei 34 anni e mi aspetto pilo pilo e pilo e pilo perchè bisogna cominciare a fare delle delle un'informazione su questo pilo perchè la gente non lo conosce bisogna che la gente si informi lo utilizzi pilo il 2008 deve essere un anno di pilo pilo e pilo per chi? pilo per tutti per chi? se se si che ci 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 Grazie.